Siamo a parlare di Sampdoria, di Sampdoria, ma la vera Sampdoria sono questi qua, siamo la gradinata su tutti, se tutti quelli che ogni cazzo di domenica entriamo lo stadio Amarassi andiamo in giro dell'Italia a sostenirlo, non c'è tante altre borre da dover dire, se a questi qua siamo ragazzi. E' una parte più grande, ma la vera Sampdoria è un'altra parte più grande, ma la vera Sampdoria è un'altra parte più grande. Diciamo la mereta bluce e pianta, e noi sui li vederà contarne spots, cheаться dovesse lanciare città. Diciamo la mereta bluce e pianta, e lento è un in multim spot, facciamo vedere stb懂i di Case. ricordiamo tutti, è venuto colito, non andava bene, che voleva raviarlo, con le nautiche non aveva ben andata, anche se era satorno, e man mano, ogni volta, faceva sempre il bagliaccio, stiamo andando a parlare di società, gliel'abbiamo detto, ci avevano e tutto ciò non è accaduto, è stato bravo, però no, poi di nuovo, no, 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 e se c'è la storia del Napoli, che tutti voi sapete, che poi l'hanno rincalzata per la cosa dei cuori antirazzista, quindi tutte queste cose quattro, comunque, mi fanno che venissi poco a noi queste cose non si accattivano, ma sono stati solo cuori, e quindi quando siete, sono stati apporti, 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 quindi destra, finito, centro, rosso, verdi, hanno non c'è il segretario, noi ci siamo tolato, addolio, e sarà sicuro, così. Abbiamo il posto di scissione, dove dicevamo che comunque non ci andava, tra virgolette, delle, senza tutti i posti, senza tutti i posti, senza tutti i posti, senza tutti i posti, solo da fratto ce l'abbiamo sempre messa, come sempre, per tenere matrizia, quindi c'è uno che deve stare a casa, è solo lui, e se ne vada anche a fare il muro. Grazie. 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 Grazie.